Ciao amici e benvenuti in A3 Channel! Dopo la scena di sceso la biocco, i zuccherini alcolici sono la scelta giusta per ritirarvi su. Sono realizzabili in mille versioni. Vediamone un paio. Per questa ricetta ci serviranno zuccherini, camomilla, mirtilli, genepì, anice stellato, alcol puro. All'interno dei barattoli alterniamo le zollette agli aromi scelti fino a riempire completamente il contenitore. Agitiamo i barattoli per compattare adeguatamente il contenuto, ottenendo ulteriore spazio da colmare con altri zuccherini. Versiamo l'alcol puro fino a ricoprire completamente. Chiudiamo ermeticamente i contenitori e lasciamo riposare per almeno 15 giorni. Come potete vedere le alternative sono tantissime. Menta, lavanda, cannella scorza d'arancia o mirtillo. Fateci sapere la vostra versione, condividete le foto e al prossimo video. Ciao! Ciao!